Avete inteso che fu detto, amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Come possiamo amare i nemici? Chiaramente non è la prima volta che leggiamo questa proposta evangelica e la prima cosa che pensiamo è l'idealizzazione dell'amore. Sì, desideriamo amare i nostri nemici, vorremmo riuscire a fare tanto, ma notiamo la difficoltà, ci sembra una situazione limite, già stento riusciamo ad amare coloro che amiamo, coloro che fanno parte dei nostri affetti più cari, amare il nemico come è possibile. Il punto è proprio questo. Chi è il nemico? Chi sono i nemici? I nemici sono tutti coloro che ci deludono, sono tutti coloro che fanno parte degli affetti più cari, con la quale spesso ci troviamo a vivere una relazione complessa, difficile, piena di sofferenza, piena di ambiguità, di incomprensioni. Cioè in fondo, se facciamo caso, nelle nostre relazioni c'è sempre questa inabitazione della inimicizia. Quindi comprendiamo che in fondo Gesù non ci sta presentando una situazione limite, ma una situazione ordinaria, spesso ci troviamo in questa situazione. Ma ancora rimane sospesa la domanda, come posso io amare, perdonare coloro che mi hanno fatto del male, coloro con i quali ho una relazione molto complessa? Il punto è questo. Non siamo noi a perdonare, o meglio, è l'esperienza dell'amore straordinario e misericordioso di Dio Padre nei nostri confronti che crea quello stupore, quella meraviglia e ci spinge, ci sprona a essere come Lui, a essere figli del Padre. In fondo è la relazione continua, sempre alimentata con la paternità di Dio e con la sua misericordia che plasma, che forma il nostro cuore quotidianamente e continuamente per far sì che il nostro amore sia un amore aperto agli altri. Ripeto, non è una situazione limite straordinaria, ma è l'ordinarietà della straordinarietà nella relazione con la paternità misericordiosa di Dio che ci porta ad amare, perché se non amiamo chi ci fa male non viviamo la nostra vita. Buona missione.